bella a tutti ragazzi ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video da InxN qui sono in compagnia di Shadow e Michelino ciao a tutti ok la prossima volta faccio salutare Shadow adesso ci tengo a precisare che questo episodio è stato registrato subito dopo il precedente quindi eventuali commenti e roba del genere non li abbiamo letti ok ogni messaggio o e o cosa riferimento vaffanculo volevo fare tipo un messaggio farmaceutico ma non mi riesce farmaceutico ah si tipo quelli non usare no ogni messaggio e ogni riferimento è puramente casuale tipo una roba del genere ma non mi riesce crediamo che la Durex non usi questo video per farsi pubblicità come ha fatto in precedenza a me piacerebbe essere la Durex basta no veramente ho pubblicato un post su facebook in cui veniva mostrato un mio video e c'era la pubblicità della Durex ti piace allora serve un piccone perchè sennò non posso andare avanti da me un piccone darà Xinner dammi un piccone dove sei? Oddio ho trovato l'universo sì indietro di te sono Xinner piccone Xinner vieni grazie a me si è proprio spaccato sei proprio un gentile m eh secondo te ti do il mio bel piccone impietra col cam scusami vabbè vieni qua dai tolodo di ieri e che cosa precisiamo e quello già chissà che pensa sto però tu ce l'hai una fornace tu ce l'hai? ok allora ho 11 pezzi di ferro d'acquoce dammi li cosi vado a prendere una fornace dai tieni aspettati ti do un poco di ferro dammi tutto quello che hai d'acquoce che li vado a coce ma te li stai riprendendo qui io ho preso altro oro ma cos'è giustizio bravo si è fortissimo può andare scusami michelino dove stai c io ho trovato l'universo qua non aspetta ci devo andare tutto illuminato da questi fantastici minerali cos'è sta roba oddio un creeper che è volato dall'universo da che non sono messa la la fornace oddio michelino sopra fornace come è stata qua evalimenti ci sono i primi per passo che mi stanno aspettando lavati un po' di qua mettiamo più di là per favore più di là ok e allarca fai un po' più sicuro a questa zona che non mi sento sicuro a camminare qui aspetta che faccio altre fornace però io ho finito la coppia oh my god sta arrivando uno zombie proteggimi proteggimi oddio proviamo a fare una cosa allora che cosa cuocio il team vieni qua vieni qua creeper vieni qua creeperino ok avrò perso metà vita però almeno ho fatto saltare in aria a tutti i mob sei bruttissimo o quasi tutti diciamo allora ah zombie puoi fare duro con me eh eh che cosa in che senso no in che senso i doppi sensi i doppi bis e basta questa qua è da bippare bip l'ho bippata io non lo puoi fare ah non sei un editor professionista vedi ti ho smerdato la carriera che cacchio vivi a fare ma con chi stai parlando non lo so sto sclinando io quando sclero faccio così e non eh si lo so che sei strano oddio che scavolo mi dai due stick michelino ma questo qui da dove è uscito dammi due stick non ce l'ho muovito mi ha lasciato un cervello di zombie ma che qualcuno che mi dia uno stick sto per sclerare per cristo ah si ce l'ho ce l'ho ce l'ho dammi due stick ok si posessi il cave sounds tra poco mi spunta che cavolo il lag mi spunta aerobrin aerobrin sai come si pronuncia vero? si c'è chi c'è aerobrin le canzoni dicono have you seen the aerobrin quindi si le canzoni fanno proprio caca eh allora anche tu visto che l'hai scritta è che io sono una canzone tu l'hai scritta? ah si io mi chiamo Gigio D'Alessio Gigio D'Alessio ah pensavo tu fossi Tiziano Ferro capito? no io sono Anna Tattangeli Anna Montana? no la panna montata in che senso la pasta oh ma voi dove state? in culo alla palena in culo al mondo no io ho detto alla palena che poi la palena quanto è il mondo è un altro discorso ma perché devi rompere le patti? tipate mi aspetta un attimo eh tipate mi aspetta un attimo lo dice a qualcun altro eh no io lo dico a te perché tu sei qualcun altro quindi scusami scusami per favore scusa dai tipami dai da chi? da me dai tipami tipi ai galax xx shadow oh yeah attenzione alla lava però dove la fornace? ehm non lo so ho detto proprio che sei un pinnone che cos'è? lascia vedere no no quello che c'è fregato del copper ma chi è che mi colpisce? io ma che c'è fregato del copper michelino la prossima volta eh ti ho piccato a mano ti ho piccato a mano oh 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 non c'è trovare io allora due qua ce ne picchiamo tre eh 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 basta sto andando sto leggermente diventando pazzo ma non è così ma se tu hai i doppi sensi che ci posso fare io? io c'ho i doppi sensi ok io sono bilaterale ok michelino che sta cercando di via via sei un parassita sei un paranoico guarda come fa quando guarda come guarda come io mi chiamo Cavani e cammino così oh my god che starà guardando probabilmente questo video quindi lo salutiamo ciao Cavani mi fai un autografico Cavani allora io ho deciso che la prossima volta vengo a Napoli e mi voglio farò guardare il naso da te per favore guarda che comunque non è di Napoli eh allora ho una cazzo di immaginazione posso usarlo? Cavani è l'Andia è l'Andia cavani l'Andia sì io ci sono andato avanti ieri con la macchina fotografica è una cosa bellissima lol è mio là c'è della redstone ci sono c'è anche un creeper non ci tengo a vedere eh ho visto la redstone e io ho visto un creeper e io ho visto la morte con gli occhi perché la morte come la vedi Cristo idiota ho visto la lava in questo senso sei proprio un genio cioè come ti chiamavano Shakespeare? no lo chiamavano Cavani Cavani Xplir perché Xplir? Cavani Xplit bello quello Xplit che è il programma per registrare i live yep ma quelli potenti mica quelli scrawsi come te perché io sono un live sì perché tu vivi live uguale ma tu sei proprio un pinno non ho niente o la certezza a questo punto qua c'è dell'acqua e io sono pro perché l'ho trovata ah capito sei un pro lui è un pro capito no io sono pro allora in latino pro tu sei un fro è diverso capito io sono frodo io sono frodo fermo mi stai uccidendo lo sai sono frodo il frocio è da bene con tutto il rispetto chiaramente con tutto il rispetto per i gay noi vi amiamo come Cavani noi vi amiamo ragazzi non abbiamo niente contro Michelino però ok allora siamo a 9 minuti e 22 secondi madonna tu che mi stai addosso a questo orario di merda ma spara e guarda dobbiamo fare 10 minuti e alla volta sì perché sennò ti crepa il cane il cane che cazzo il cavane ti venisse ti venisse un cancro all'uncchia all'uncchia però un cancro al cavane lo sai che oggi il cavane ha fatto un live eh ok queste cos'erano tu che fa pavio e le tue mani madonna tu sai che pensi ai doppi sensi cioè ora la gente guarderà sto video e penserà ma chi è sto idiota che fa sti ragionamenti del cazzo eh eh xin eh no guarda tu tunze 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 cavani cavani allora va bene eh dove stai shadow eh io sto minando il carbone stai minando ho capito la sto minando basta hai del cibo scelto sì poverti lo fai appunto io c'ho 4 di cavani io c'ho 4 bistecche di maiale di calcio dai del cibo per favore due dammi la mia si aspetta ci ritroviamo in grado di trattare in grado eh ma che cavolo però non ne ho fatto nessuno è solo tipo di parla aspetta ho avuto ho avuto hop ai galax eh pure a me allora ok tp michelino min michelino mi non voglio parlare è meglio vedi sta già piovendo su un game perchè parla no blog ah ragazzi merta oh ma sto pipistrello che vuole fare mi vuole inseguire per tutto i lapiscazzoli lapiscazzoli eh che si ragazzi comunque per questo video mi sa che è tutto dai ci vediamo ma cosa ma cosa e dai dobbiamo interrompere dai ma c'è uno scheletro che mi stupo eh ci sono 11 sai sono 11 minuti dai si lo so ma devo fare un trickshot allo scheletro ma che me ne frega a me del trickshot allo scheletro poi fare pure il 360 aspetta fammi prendere la redstone abbassate i spicci la redstone mi tipito allora dove che cosa stai ammazzando ok l'ho buttato nel fuoco vabbè dai adesso scusate 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 adesso dobbiamo ritornare là quindi devo andare di qua vabbè ragazzi noi torneremo alla piedo quindi da quindi da quindi da shadow da shadow da shadow e da michelin e tutto ciao ciao e mi raccomando usate le precauzioni basta ciao a tutti ragazzi ci vediamo al prossimo ecco ciao siamo tutti pax e relli for the win basta per oggi basta 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 la pasta ok maura ciao ok abbiamo ok abbiamo ok ho l'inventario ordinato e io con questo inventario ordinato che me ne vanto ritorno sopra e piazzo tutto basta adesso faccio un editing di cristo ma Marco che fino a fatto è andato a a far fare il brutto ma qua c'è una bella sega eh eh iiii iiii tipami shadow ancora dobbiamo registrare se vuoi tipami shadow prendi le fornaci prendi le fornaci un sacco di roba un sacco di roba buona basta ragazzi ma guarda che ti ho fatto lo puoi fare tu ok rossica 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 gatto minchia tu c'è problemi guardate quanta roba ho guardate tutti i scemi che non serve niente rossica rossica cavani minchia cavani gay cavani tipo cavani gay oppure shadow minchia che picchio la sua ma vaffanculo imxen fanculo cavani ma voi conoscete imxen io mi chiamo okra ma chi è quel gay no si eh io no mi hanno detto che c'è un certo shadow blastification ma no no quel cosa è un trauma ti prego mi hanno chiamato piu' ero rotto in culo ahahahahahahahahahahaha che cazzo ride e tu e che ridi alla separatura rotto in culo sì mi piace va bene eh ti piace il rotto in culo capidi ahahahahahahaha cazzorini co***o basta e quindi tu che ridi sei pure un co***o guarda qua c'è il co-op Picasso ma comm' ti contraddici cazzo contraddiscimi bp o va a farlo ma non c'è la idea si chiama il suono del se c'è lo guarda cosa messo in questa scherzo piccolo tutto quello che ho preso io ero uscito poco qualcuno ieri ha detto mi è uscito poco ok mettiamo tutti i minerali più figli attiva una bella casetta faccia registiamo l'ultima volta che ci facciamo la casetta e poi andiamo a dormire no dai no no domani domani perché poi averne tanti è brutto averne tanti ma dove averne tanti ok slow ne ha tanti